Preghiera della Sera Noi siamo, tramite lo Spirito, contemporanei della Natività, ma siamo già seduti con Cristo nei cieli. Ecco perché noi Ti contempliamo, bambino posso in una mangiatoia. Tu sei il Dio, l'Altissimo, indicibile la bellezza del Tuo volto. Nella Tua mano sinistra stringi l'universo tutto, mentre con la destra benedici. Amen Grazie